... Continua la protesta degli studenti, questa volta uno sciopero organizzato a livello nazionale. Molti dei vostri compagni si lamentano del fatto che non siano presenti tutti gli istituti. Sì, effettivamente la presenza certe volte cala, anche perché alcuni non capiscono e non vengono coinvolti dai motivi di questo sciopero, che in realtà è uno sciopero che non coinvolge solamente noi studenti ma anche i professori e in generale la scuola, sia pubblica che privata. Quindi diciamo che noi vorremmo sensibilizzare ad una partecipazione più ampia, perché comunque siamo pochi ma abbiamo dei ideali, abbiamo dei diritti che vogliamo portare avanti. La demotivazione degli insegnanti secondo voi incide anche sul rapporto con gli studenti? Sì, perché comunque diciamo che gli insegnanti dovrebbero infondere in noi questi ideali di avere diritti e di avere libertà. E la demotivazione degli insegnanti, anche per il discorso dello scatto, che non è più per l'anzianità ma per merito, diciamo che provoca molta demotivazione anche negli studenti. Diritti! Diritti! Facciate le parole per la salvezza! Noi continuiamo a chiedere i nostri diritti, i diritti che vogliono avere tutti gli studenti alla nostra età, però siamo venuti qua ma ci facciamo sentire solo noi, nessuno sta partecipando e questo ci dispiace molto. Quali sono gli istituti presenti? Siamo solo tre, siamo lo scientifico, il chimico e il liceo classico. E' un po' di alberghiero, è un po' di alberghiero. Avereste voluto la partecipazione di tutti? Sì, perché se non si fa questo sciopero ormai è l'ultimo che facciamo. Vogliamo! Vogliamo!